ciao a tutti ben trovati benvenuti sul canale youtube scattacoltrend in borsa facciamo il punto sul gold perché ovviamente un asset seguitissimo e onestamente anche perché tanti lo chiedono e li ringrazio anche se devo dire che è una situazione molto molto incerta particolare e anche se abbiamo un trend di fondo molto chiaro nel brevissimo non è semplice andare a individuare livelli e aree di intervento però ci proviamo perché mi sembra corretto visto che tanti iscritti del canale lo hanno richiesto andiamo velocemente su quello che è la situazione basica nel senso di andare a individuare il posizionamento del cosiddetto genero denaro gestito siamo sul cotreport di forecaster grazie a chi ha voluto abbonarsi a forecaster trovate il link in descrizione per farlo con uno sconto e grazie agli amici di investire punto biz allora il denaro gestito innanzitutto si intende consulente commerciale materie prime registrato operatore di pool di merci registrato un fondo non registrato questi tre sono impegnati nella gestione e conduzione di scambi organizzati di future per conto dei clienti in generale se andiamo a prendere tutti i non commerciali quindi chi effettivamente non compra oro fisico ma fa sostanzialmente speculazione trading ok abbiamo appunto cta cpu hedge fund nonché una vasta gamma di altri trader non commerciali speculativi insomma quindi questo cosa ci evidenzia che c'è una netta maggioranza perché questi istogrammi sono il saldo fra chi è lungo ossia mai corto sia sel e il netto la differenza ecco vediamo che c'è un chiaro e permanente da tempo posizionamento in grande maggioranza rialzista quindi in generale si conferma semplicemente e con un mimo di buon senso il fatto che non è diciamo assolutamente consigliabile cercare di mettersi contro il mercato anche perché la posizione il posizionamento dei degli speculatori è perfettamente consono al al prezzo l'unica cosa che effettivamente dobbiamo andare a valutare è che il prezzo attualmente si trova molto distante dalla dalla sua media mobile a 200 periodi e tendenzialmente come per ogni asset quando il prezzo è molto lontano dalla media tende per logica a riavvicinarsi proprio perché la media si dice dove mediamente il prezzo stava negli ultimi 200 giorni negli ultimi 200 giorni il prezzo mediamente stava a 2030 dollari all'incirca per oncia e adesso è molto lontano quindi probabilmente avremo un riavvicinamento però prima dobbiamo notare come lo stocastico dopo questa fase di scarico abbia incrociato al rialzo da una zona di iper venduto ok e quindi prima di un naturale riavvicinamento ci sta un tentativo ancora di un movimento al rialzo che secondo me vedendo analisi tecnica proprio nuda e cruda potrebbe prendere l'area che vado a evidenziare eccoci qua questa area statica secondo me adesso a resistenza quindi 2350 dollari per oncia ok questa quest'area qui che corrisponde molto semplicemente come diciamo infinite volte alla metà di questa chiara candela birici quindi era stato resistenza poi rottura supporto rottura resistenza e ora probabilmente potrebbe essere ripresa quindi il primo movimento che mi attendo è questo movimento poi proprio per recuperare l'eccesso mi attendo una fase di ritraccio che diventerà probabilmente un'occasione buy interessante vedere la dx quindi l'indicatore di trend che attualmente sta a 24 e mi riferisco alla linea nera e quindi con la sua discesa ci indica come il trend rialzista stia leggermente perdendo forza le 2 dmi la positiva quindi quella rialzista la verde è sotto a quella rossa che è la negativa questo ci evidenzia e se facciamo anche brevemente uno zoom questo ci evidenzia come si stanno allargando e quindi come il movimento ribassista di scarico dal eccesso di acquisti possa salva appunto questo ritraccio poi possa proseguire quindi molto molto banalmente quello che poi vediamo in tutti gli asset i movimenti alla fine sono più o meno sempre gli stessi questo è quello che ci possiamo attendere e quindi ovviamente non mi aspetto che il prezzo vada proprio a riprendere la media mobile a 200 periodi ma potremmo magari assistere a un ritorno ai 2.200 dollari 2.290 2.220 ossia si va a evidenziare in sostanza una area di swing davvero importante perché è un'area di swing che con quattro test aveva offerto resistenza ok e la andiamo a evidenziare e quindi anche qui vediamo primo test secondo test terzo test e quarto test e poi la rottura ecco che a questo punto un rientro in area 2200 manterrebbe ovviamente del tutto sano il trend rialzista di fondo e farebbe anche scaricare in l'area povere quella che è questa fase di per comprato per chi fa elliot magari non è semplice andare a individuare le varie onde impulsive adesso le andiamo velocemente ipotizzare perché non sono un elliottiano tra virgolette ma se vogliamo tra virgolette giocare ok tanto per individuare quelle che sono le aree importanti ecco che possiamo provare a evidenziare onda 1 onda 2 onda 3 che tendenzialmente statisticamente la più lunga onda 4 e onda 5 queste le onde impulsive adesso saremmo nell'ambito delle onde correttive quindi a si è formata b si sta formando poi dovrebbe andarsi a formare appunto onda c e da qui dovrebbe poi ripartire quello che è il movimento primario rialzista che qui andremo tendenzialmente riavvicinarci alla media mobile la quale ovviamente essendo in ritardo la troveremmo comunque ancora più alta e sarebbe anche rispettato il conteggio delle onde nel senso che onda c l'onda correttiva da regola non deve andare sotto a quella che è onda 4 ok quindi questa è onda 4 per cui onda c deve rimanere sopra a questi minimi per cui ecco rientrare su questo livello è un fatto secondo me perfettamente nella norma manterrebbe il trend rialzista intatto e oltretutto sarebbe anche una interessantissima opportunità di ingresso al rialzo a favore di quello che è il trend primario infine se proviamo anche a tracciare la più classica delle trend line rialziste ok molto molto semplicemente vediamo che ci va a confermare come tutta questa area tra i 2150 e i 2200 punti è un'area di fortissimo interesse rialzista è chiaro che adesso se ipotizziamo corretto questo impianto che ho proposto in questa fase diventa molto difficile operare qui siamo sul daily chiaramente non mi riferisco a chi fa interday su questa fase diventa difficile operare nel senso che si potrebbe tenendo bene a mente che sia contro trend al test dei 2350 dollari ipotizzare un sell in ottica di breve per andarsi a prendere onda c tra virgolette mentre chiaramente chi opera a favore di trend secondo me quindi opera buy dovrà aspettare magari il ritorno in quest'area che diventa molto interessante provare il l'ingresso long io vi ringrazio ancora vi invito a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sul logo della campanella per ricevere le notifiche ogni volta che siamo live o quando viene inserita una nuova analisi come questa alla prossima